Effettivamente negli ultimi contatti che ci sono avuti, perché come sapete bene, noi durante il periodo elettorale abbiamo seguito come coordinamento sia la corrente di Caldoro che quella di De Luca per capire cosa avevano intenzione di fare. Ed è stato solo questo il nostro scopo e per prendere i contatti con la compagine che sarebbe un attimino arrivato a governare la regione. I contatti sono rimasti sia da l'una che dall'altra parte, in questo momento stiamo in continuo contatto con Luca Cascone come consigliere della regione a cui fa capo De Luca e costantemente ci stiamo sentendo e stiamo monitorando la situazione dei trasporti e come avete ben visto è ancora caotica perché abbiamo circa 25 pulmani in azione. Sono ben pochi comunque di quelli che ne avremmo bisogno. Tranquillamente pochissimi, il Presidente comunque ha rilasciato, comunque ha l'unico comunicato stampa, arriveranno 25 autobus, è ufficiale, quindi nei prossimi giorni speriamo che arrivino. E' attenzionato veramente il problema come aveva promesso, come del resto anche per quanto riguarda a mare. Quindi noi aspettiamo con ansia questi pullman come già fatto anche da qualche comunicato e devo dire apprezzare e ringraziare sia il Presidente De Luca che Luca Cascone che si stanno un attimino muovendo con una certa insistenza e con una certa determinazione. Voi avete chiesto un incontro mi pare? Abbiamo chiesto anche un incontro, in verità ce ne sarà forse anche uno in settimana prossima e poi entro settembre un incontro decisivo con tutte le parti per cercare di capire come affrontare sia la problematica a mare che a terra. A proposito della problematica a mare che notizie si hanno? La notizia è che praticamente la Caremar è privatizzata perché era stato già stabilito, per cui sembra che il Presidente abbia chiesto agli armatori privati di coprire quelle corse che sono state saltate ultimamente e cercare un impegno un attimino più concreto, cosa che sembra sia stato accettato, ma noi come coordinamento, come comitati e insieme alle associazioni che stanno partecipando tanto sia ConfCommercio che Ascom ci siamo sentendo in continuazione abbiamo chiesto un incontro proprio per capire se succederà, che ci sarà un monopolio per quanto riguarda la situazione a mare e che sarebbe un attimino sicuramente negativo perché sebbene quando c'è monopolio poi iniziano ad esserci degli interessi che non tutelano l'utenza. In conclusione, come mai secondo te De Luca ha deciso di non nominare un assessore specifico? Ma perché secondo me il problema è abbastanza complesso e forse penso per paura che chi tecnicamente doveva essere messo a seguire questa problematica poteva forse essere influenzato, io siccome lo vedo una persona determinata che quando decide vuole raggiungere un obiettivo si è preso lui l'incarico e noi con lui vogliamo parlare, lui l'ha detto, ci siamo stretti la mano, lo stiamo aspettando.